ciao cinefusi.it oggi vi parlo di un format che potrete guardare sul canale 176 explorer channel di sky si tratta di un format molto interessante che che si intitola arte 1 e che è prodotto da una rete realizzato da band che è una rete brasiliana che è stata fondata nel 1967 e che ha avuto un grande sviluppo appunto nel sud america e dalla fine degli anni 70 è diventata proprio una rete a livello nazionale e appunto molto seguita in tutti gli stati del sud america il format è interessante perché prodotto dalla opera on media che è una casa di produzione internazionale che si occupa proprio di contenuti audiovisivi in particolare legati all'aspetto culturale anche allo sport ma che si avvale appunto nel suo staff di professionisti provenienti diversi da diversi settori come il cinema il giornalismo la radio ed altri ed ad anche una una grande grande anche grande importanza all'inclusione allo storytelling e quindi questo format arte 1 è perfettamente inserito nel in quella che è la mission proprio della della oberon media ed è molto interessante perché appunto band ci propone una serie di documentari girati da diversi registi con interviste molto originali a personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura solamente per fare alcuni nomi per citare alcuni nomi ci sarà il documentario su roberto bolle su claudia cardinale giancarlo giancarlo giannini carlo ratti come architetto o anche lina vert muller come regista e molti altri ed in campo internazionale artisti brasiliani giapponesi pittori scultori ci sarà anche un documentario su daniel daniel liebeskind e oltre ad essere interessante perché ci propone attraverso proprio delle interviste ai personaggi ai personaggi veri e propri queste interviste sono tutte diverse tra loro proprio perché girate da da persone diverse quindi con un proprio stile una propria personalità e un proprio modo di interpretare appunto il il documentario perciò vi consiglio di guardare questo format che ha avuto già inizio dal primo luglio ma che continuerà insomma per anche per tutto il resto dei mesi e quindi si avrà la possibilità di vedere molti di queste molte di queste chiamiamole impropriamente puntate molti di questi documentari che appunto vi consiglio perché sono particolarmente interessanti e ben ben girati e ben scritti con questo vi saluto se vi è piaciuto il video mettete mi piace alla pagina facebook alla pagina instagram e al canale youtube di cinefusi.it grazie a tutti e buon proseguimento d'estate